di centocinque presenta dove abita Egno? alla ricerca del suo campo Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? se forse vincerai 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 oh, quindi? quindi in questa puntata in questa puntata che vi facciamo sentire di Egno dove abita Egno ci sono rotti un po' i coglioni di recitare e fare le parti quindi oggi saremo noi stessi io sarò Vincenzo e con me ci sarà Gianni, figlio di Arnaldo figlio di Arnaldo e io figlio di Barnabas ma questo arriva dopo, quindi vi facciamo sentire la telefonata per dimostrarvi visto che tanti scrivono che Egno è finto, vi dimostreremo che Egno è veramente vero nel senso non è una persona che recita con noi al telefono comunque vi facciamo sentire la telefonata siamo pronti? basta! pronto! pronto Egno, sono Vincenzo, come stai? Vincenzo! sì, ti chiamo Vincenzo Lignaurico, ma chi sei? no, no, sono Vincenzo, ti ricordi? sono quello della radio, della radio della radio? Vincenzo della radio? ci conosciamo? della radio sì, perché gli ascoltatori dicono che tu sei finto eh, ma è finto? eh, ma invece sei vero ma è finto tua madre ma è finta tua madre basta! si dimostra che tu sei vero senti un attimo Egno eh, visto che mi sono rotto il cazzo di continuare a chiamarti per sapere dove abiti se facciamo prima magari me lo dici subito così vengo da te, ci facciamo due foto e facciamo vedere gli ascoltatori come sei fatto e finisce lì ma perché te non vuoi far venire a casa mia che non so neanche chi sei? ma no il senso ma no, tu sei famosissimo sai che sei famoso? ma che io sono voi mi favo famoso? sì, sai, i tuoi fans adesso ma che le dici di me? ma che ti dice solo i fans? no i fans? ma che ti dice solo no, no no, i fans i fans i fans no, i fans con la F coglione i fans, porca la f***a cosa c'è? egnuno cosa c'è? i fans i fans è il tuo pubblico quelli che ti adorano sì, sì io volevo capire bene dove abiti così vengo a fare un po' di foto no reggio Emilia te e dammi l'indirizzo allora sono Vincenzo della radio ma guarda ascolta se io vengo da te facciamo due belle foto ce l'hai il trattore nuovo? due belle foto ce l'hai un bel trattore dove sa fare le foto che vai sul trattore me e Johnny facciamo delle belle riprese se vuoi te lo passo Johnny ma lo conosco anche Vincenzo a Vincenzo sono io allora io sono Vincenzo il figlio di Barnaba ascoltami io sono Vincenzo il figlio di Barnaba 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 e il Johnny no no ok però io sono Vincenzo adesso ti passo Johnny che ora sempre con me nello zoo allora ti passo Johnny che ti dirà anche di chi è figlio lui va bene? te lo passo è importante che tu stia molto calmo si devi stare calmissimo me lo prometti? te lo passo eh ti passo Johnny 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 no 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 giorni 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 te lo passo aspetta un'altra cosa io e te ci conosciamo? no no non ancora mica non io non so mica si sa che c'è il figlio di Barnaba ok ti passo Johnny stai calmo eh stai calmo te lo passo aspetta eh come andrà a finire Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? lo scoprirete nella prossima puntata di dove abita Edno ciao ciao ciao